Va bene la giornata è finita, andate a dormire, andate in pace e via, è più veloce, 4 case per gli abitanti che arriveranno, è vero, tra un po' arriveranno 3 case in realtà potrebbero bastare, noi dovremmo avere qualche posto già libero o no? Quanti posti liberi abbiamo? Nessuno, ok, 4 case, e niente, allora, allora, 4 case, 4 case, vediamo un po' dove piazzarle ste 4 case, allora qua converrebbe fare anche una mini stradina credo, posso fare così, anche così, E, ok, così ne facciamo, me l'ha segnata la strada? Sì, ok, 1, eh ci rimane in realtà un po' di spazio qua, quindi potremmo fare anche, 3 case non ci vanno, no, vabbè facciamo così poi, vediamo, E un'altra casa qua, yes, ok, il problema è che ci servirà più cibo adesso per le persone che abbiamo salvato, e non ce lo mandano, grazie il vecchio pasc, grazie per i 31, grazie mille, grazie mille, grazie, grazie, grazie Sì, sì, siamo su PCI, allora, tra poco la temperatura dovrebbe risalire, i ricognitori di unità non hanno fatto ritorno in città sani e salvi, puoi scegliere le squadre di ricognizione alla radiovedetta e inviarle di nuovo nelle lande ghiacciate, allora, sono arrivati 22 lavoratori, 11 specialisti, Vabbè, ci hanno riportato anche acciaio e questo, però, sono tutti malati, no, senza tetto, sono senza tetto, oddio, un po' dei malati ci stanno pure Se mi costruite le case al volo, almeno il tetto ce l'avete Almeno questo Aspetta, li mando un attimo a costruire subito ste case E poi li mettiamo a lavorare Allora, intanto questi io li rimanderei Ai resti di un edificio li mandiamo Tacchete Poi Grazie a Mamurra per i sette mesi, grazie Mamurra, grazie di cuore per l'Aresab Allora, andiamo un attimo qua, abbiamo 11 specialisti disponibili, quindi qua rifacciamo così Ne rimettiamo 5, che i 5 specialisti qua, insomma, tutto fa brodo Dopodiché, quali specialisti stanno apparati? Sì Allora, gli altri specialisti li metto qua Tacchete Efficienza 110% E gli altri li potrei mettere in cucina, ma visto che la cucina non funziona, non conviene Stiamo raggiungendo il limite del legname Quindi, ora Converrebbe anche fare un Un magazzino Questo è il magazzino Piccolo Vediamo che dicono questi Malato grave Signore, molte persone sono gravemente malate e non disponiamo di un'infermeria Dovremmo chiedere a Nuova Londra di interessarsi al problema Facciamolo Non ora Eh, mo non lo possiamo fare perché il nostro rapporto con Nuova Londra è medio Stanno un attimo alterati Allora, noi comunque possiamo mandargli già la prossima spedizione Tra parentesi Quindi, a posto Abbiamo programmato la spedizione Ed è partita Sperando di aumentare un po' il favore E che ci arrivino Magari un po' più di cibo Ehm Ora Sto aspettando Vabbè, questo qua I malati Questi La situazione è questa qui Il Dicevamo Il Magazzino Un magazzino piccolo Dobbiamo fare Se riusciamo a piazzarlo Tipo Un posto dove Lo insiniamo Allora, il magazzino non necessita di riscaldamento E niente Quindi io il magazzino posso pure piazzare Qua Magazzino non serve a niente Nel senso dal punto di vista Ehm Delle Del riscaldamento Quindi va benissimo lì Allora Adesso vediamo Per il momento ci mettiamo magari Dell'estrazione del carbone È stato studiato Bravissimi Bravissimi Ora Andiamo subito a costruire La Non è vero Ah Un nucleo di vapore Ce serve Mannaggia 25 legna 10 acciaio Un nucleo di vapore Fermi tutti Passiamo ad estrarre i nuclei di vapore Ma ce li teniamo noi Vabbè Almeno uno Andiamo a ricercare Altre cose Tra cui Carbonai è quella che Trasformava il legno Le temperature per carbonizzare Fino a 70 unità di legno Ok Eh Non è facile Nessuna di queste Isolamento delle cucine Dormitori Isolamento delle strutture mediche Dobbiamo pensare un po' Al futuro Quindi Onestamente Andrei a fare I dormitori Proviamoci Ragazzi proviamoci Grazie Dark Raffo Grazie per i 15 Grazie mille Grazie mille Eh Poi facciamo anche i braceri Però per il momento Siccome la temperatura È Molto fredda Ma né gelida Né ghiacciata A ste temperature Possono stare Tranquillamente Perché se andiamo qui È freschino Adesso miglioriamo la cosa Poi aumenta la temperatura Poi riscenderà di 2 Risalirà di 1 Scenderà di 1 Insomma stiamo a fa sopra e sotto Però Freschina Dai freschina Ci stanno Poi facciamo Al momento Non sto facendo i braceri Perché Fino a quando non estraiamo il carbone Io potrei ricercare i braceri Ma tanto non li possiamo fare Perché se no finiamo il carbone Che al momento Non facciamo Quindi Aspettiamo un pochino Almeno di Avere la possibilità Di accumulare carbone Ora Al momento qua Potremmo accumulare Un po' di legname Ma Aspetto un po' Perché probabilmente Appena attiviamo la carbonaia La succederà un macello Cioè Andremo ad accumulare Molto più carbone Anche se poi lo utilizziamo Però Vabbè niente Andiamo ancora un po' avanti Aspettiamo che aumenti Magari il favore Anche di Nuova Londra Che ci ha mandato un messaggio Vediamo che dice Allora Avamposto 11 Portiamo cattive notizie Le norme che disciplinano Le vostre spedizioni Sono cambiate D'ora in poi Le scorte alimentari Verranno inviate Soltanto Dopo l'invio Di un carico di acciaio E nuclei di vapori Verso Nuova Londra Ci dispiace Dover ricorrere A misure così drastiche Ma sono state ritenute Necessarie Per sollecitare La consegna di scorte Fondamentali Nei tempi previsti Ma scusate Noi più veloci di così Non potevamo fare Per il momento capisco Ma tra poco Non capirò più Tra poco Non capirò più Perché questi Più veloci di così Non possono fare A meno che Non li obbligo A fare il turno Di 24 ore E il malcontento Naturalmente Aumenterà Ora Se noi prendiamo Il primo nucleo di vapore E ce lo teniamo Per noi Il cibo qua Dura un altro giorno Se non ce lo mandano Sta arrivare qualcosa No Non sta arrivare Il cibo per niente A Nuova Londra No Mandateci il cibo Eh no Dobbiamo parlare Abbiamo dei problemi Ci serve più legno Ci serve più carbone No Il cibo mi serve Mannaggia Eh secondo me Secondo me Col cibo ormai Hanno deciso Questo quindi Non possiamo Neanche chiedere Aiuti Eh ma io Non posso Neanche andare A caccia Vabbè Non importa Risentirci Oh sto gioco È cattivo E bastardo Ma sto Di Alcini Sa che Te fa Cazza ancora di più Ufficio amministrativo Dell'avamposto Dobbiamo agire Signore La gente ha fame La situazione Non fa che accrescere La loro apprezzione Un gruppo di esploratori Esperti È qui per discutere La situazione con lei Allora Tagliando i nostri Rifornimenti alimentari Nuova Londra Ha dimostrato Che non possiamo Fare affidamento Su di loro Vero Dobbiamo trovare Una fonte di cibo Alternativa Per fortuna I ricognitori Hanno segnalato Tracce di presenza umana Relativamente recente A sud Li mandi a investigare Sulla situazione Potrebbe essere Il colpo di fortuna Di cui abbiamo bisogno Vai A sud No Andata a sud Ah Giorno e 24 ore Ci mettono Eh vabbè Eh signori Dobbiamo procurarci cibo Come detto Probabilmente Questo sarà Un altro accampamento Con cui fare Commercio Noi al momento Non possiamo fare niente Dobbiamo solo trovare Del cibo Fare il carbone Però Dobbiamo prenderci Un po' di unità Di nuclei Uno ce lo dobbiamo Tenere per noi Vediamo un attimino Si è spostato No in realtà No facciamo sia live Che Insomma Escono due video al giorno Sul canale Direi che Ci siamo Dai eh Dai signori Andate al lavoro Andate al lavoro Dai che sale anche la temperatura Ormai è estate Meno 20 Un attimo I cittadini sono morti Un cittadino è morto Che dobbiamo fare Allora signore Molte persone sono gravemente malate E non disponiamo di infermeria Dovremmo chiedere a Nuova Londra Di interessarsi del problema Facciamolo Chiedi a Nuova Londra Guarda Ci serve più cibo crudo No Dobbiamo disfarci dei cadavere Eh tante cose dobbiamo fare Dobbiamo occuparci dei malati gravi Infermeria Secondo me è meglio Che ce la facciamo da soli Vediamo che ci dice Nuova Londra Abbiamo valutato il problema E crediamo di avere una legge Che vi aiuterà a risolverlo Grazie Editto sul miglioramento Dell'assistenza sanitaria Ok Per assicurare la sopravvivenza Della colonia Ed evitare la congestione Delle infrastrutture sanitarie Durante le gelate Nuova Londra promulga Un atto governativo Sul potenziamento necessario Dell'assistenza sanitaria Con effetto a partire da oggi Tutti i malati terminali Verranno sottoposti A cure radicali Eh Sì Rischiano di subire Un'amputazione Quindi Quanto meno Salveremo delle vite Però Spero soltanto Che non mi taglino la gamba Se mi ammalo Perché la legge Che hanno promulgato Non so se ce la faccia vedere Però È questa qui Cure radicali I malati gravi Saranno curati Negli accampamenti medici La speranza aumenterà Lievemente Il 30% Dei malati gravi Curati presso gli accampamenti medici Subirà un'amputazione E non potranno In linea teorica Più lavorare A meno che non fai La cosa delle Che qui non credo ci sia Però non lo so Il maccontento aumenterà Lievemente Non è stata una bella idea Quella di farci aiutare Da Nuova Londra A questo punto Vabbè Grazie E prossimo Grazie per i tre mesi Grazie mille Grazie mille Che dobbiamo fare Signori Questo è quanto Questo è quanto Oh ce la fate Appia sto coso qua Dai un po' però Pure voi siete lenti Obiettivamente Ci hanno pure ragione A Nuova Londra Pochino eh Insomma Siete un pochino lenti Tra l'altro Qui si tratta Di raccolta di risorse O no Risorse Forza Perché se io poi Vado a ricercare Raccolta più rapida Influisce su quello Che stanno facendo Questi qua dentro Poi vediamo Al momento Fanno 0,2 All'ora Vediamo se poi aumenta Una volta che ricerchiamo Quella cosa Intanto andiamo avanti Velocemente Allora il dormitorio È stato studiato Perfetto Quindi andiamo a ricercare Subito sta cosa Raccolta più rapida La gente raccoglie Il carbone L'acciaio E la legna Vabbè L'acciaio Magari pure Da là Lo raccoglie Più veloce Proviamo Proviamo Magari Funziona Lo stesso Anzi Vediamo Una cosa Al momento L'acciaio Facciamo un attimo Così Giusto per vedere Quanto tempo ci mettono E se cambia Ne raccolgono 9,4 All'ora Ricordiamoci dopo Se aumenta 9,4 All'ora Allora Miniera di carbone Tiè E Facciamo Come la facciamo La strada Da qua Da là Facciamo così Vai Piano piano Che è successo Morti senza sepoltura Signore la gente Si lamenta I corpi senza vita Che giacero per l'estate Dovemo chiedere A Nuova Londra E approvare una legge Per far fronte al problema Facciamolo Ma il favore di Nuova Londra Mi sa che è molto basso Dobbiamo disfarci dei cadaveri Vabbè Ci fanno una legge Che sarà Quale Editto sul rispetto Dei morti Per onorare Le nostre sorelle I nostri fratelli Caduti dell'avamposto 11 Per evitare Focolai di malattie Che è la cosa più importante Nuova Londra Promulga un atto Governativo Volto a regolare La gestione Dei resti umani Con effetto A partire da oggi Tutti i cadaveri Andranno sepolti Nel cimitero Che verrà appositamente Creato per questo Frangente Ok La gente Ha più speranza E noi costruiamo Il cimitero Che può essere messo Anche abbastanza distante Dalla città Magari anche qui Onesto Le ricerche qua Sono finite Raccolta più rapida Allora Prima era 9,4 Giusto Vediamo se raccolgono Più velocemente E niente E' finita la giornata Di lavoro Lo scopriremo Il giorno successivo Grazie Clacido Grazie per i due mesi Ciao Alex da Taranto Grazie mille Clacido Grazias La retta sta bene Sta bene Allora Questa non è in funzione Ci dobbiamo mandare Del personale Ce lo mandiamo Perché ne abbiamo In abbondanza E adesso Vabbè Mo' è chiusa Ma inizieremo Ad accumulare carbone Di conseguenza Forse il deposito Servirebbe Per il carbone Miglioramento del magazzino Ci starebbe anche questo Ci starebbe anche questo Oppure Carri a mano Consente di impiegare Carri a mano Nel deposito militare Aumentando il rendimento Del 20% Eh Consente l'utilizzo Di supporti linee Per aumentare L'efficienza Dei lavoratori Nel deposito militare Ogni utilizzo Dei supporti linee Consumerà 50 unità di legna Aumenterà l'efficienza Del deposito militare Del 50% Per 12 ore E che è Use e getta Vabbè Facciamo i carri Per il momento No Questo è utile Questo è molto utile I supporti linee Vanno bene Però Il cimitero è stato creato Ora i nostri Ok La speranza È aumentata Dai è così Il malcontento È diminuito Per il momento Ce la stiamo Cavicchiando Cavicchiando Adesso Abbasserà La temperatura Quindi Si abbasserà La temperatura Quindi noi che famo Qua le case Le possiamo aumentare Da tutte le parti Quindi Smantell'edificio No Come L'upgrade Mi sa che lo devo fare Comunque da qua Il dormitorio Yes 12 legni E 10 In acciaio Ci costa Facciamone uno alla volta Perché nel mentre Quelli saranno Senza una casa Quindi Ok Il dormitorio Due abitanti su 10 Va bene E piano piano Faremo anche gli altri Abbiamo finito il cibo Signori Dobbiamo immediatamente Inviare dell'acciaio E No Dobbiamo fare una cosa No Dobbiamo mettere Quello da 24 ore Signori Raccolgo un acciaio 8 E 5 Ogni ora Aspetta Ma andiamo avanti Perché Prima era 9 e 4 Che fa Fanno meno di prima È arrivato il freddo Mi spiace Ma questo è quanto Signori Allora L'acciaio In realtà Ce l'abbiamo Vediamo un pochino Di prenderne Qualcuno in più Una volta Tanto per E poi prendiamo i nuclei Un cittadino è morto E mi dispiace Non ce posso Fa niente Ci serve cibo Lo so Quelli arrivano tra 8 ore E poi devono pure tornare Però Sono stati studiati Carri a mano Ok Adesso però Ci servono i nuclei di vapore Perché quelli ci devono portare il cibo Che non abbiamo 0-2 All'ora 0-2 All'ora Significa che non hanno fatto niente Perché pure prima ne estraevano 0-2 All'ora Capisco che Ok Avamposto 11 Avete riscontrato problemi Il carico di acciaio e nuclei di vapore Non ci è pervenuto Per aiutarvi Da tempere vostri obblighi Concediamo il diritto Di introdurre l'uso Di turni di lavoro Prolungati Fatene buon uso Sì ma ci serve cibo Biondo Un posto ok Vabbè 14 ore di lavoro Lo possono fare E in realtà qua lo faccio A parte che c'è stato attivo questo Ma lo faccio Mi spiace signori Ma qua la situazione sta Degenerando Il nostro favore è medio Ci serve cibo Serve cibo Ma il cibo Mi devi dare No carbone E Vate a cagare A risentirci cani A risentirci Eh Problematica la situazione Questi stanno arrivando Non abbiamo più cibo Questi adesso moriranno Tutti di fame Questo è un grosso grosso problema Ma i carrellini Non dovrebbero aumentare Anche Allora Tempo è Impegare i carri a mano Deposito Aumentando il rendimento Però solo di quello Squadre miste Aspetta Consente ai lavoratori Dal deposito militare Di recuperare Sia acciaio Che nuclei di vapore Allo stesso tempo Ma in modo Meno efficiente Beh però Comunque fanno Un po' e un po' Forse per il momento No facciamo questo Va Facciamo questo Nel mentre Potremmo Accumulare Un po' Di legname Prendendolo Da qui Tacchete E Tacchete Non abbiamo Tanto spazio Per metterlo Però adesso Ci servono I supporti Linei Per Fare altre cose Ricognitori Hanno raggiunto Terrazza naturale Fermi tutti Allora La terrazza Sulla montagna Digrata dolcemente Verso la valle Sottostante La ricerca Potrebbe fruttare Non lo sappiamo Quindi esploriamo Punto panoramico La vista Fa ben sperare La valle Ha un aspetto Accogliente Almeno per gli standard Della Elande Ghiacciate E ci invita A scendere Verso di sé Non c'è nulla Di particolarmente Degno di nota Sulla terrazza Valle isolata E andiamo avanti Quello ci ha detto Andà qua Andate Però il cibo qua Quando lo riportiamo Tra dieci anni Eh Ma i punti di raccolta In realtà qua Neanche servirebbero Oddio Mo siamo a meno 40 Ma a breve risale La temperatura Non è così Freddo Freddo Allora Aspetta che il carico È pronto Vai vai Fai il carico Per Nuova Londra Subito Che ci devono Mandare il cibo Sti maledetti Andiamo avanti Velocemente Questi stanno a fare Il turno di 24 ore Poi metteremo Il turno da Qua ancora non ho deciso Cosa metterci Poi vediamo Qua qualche morto C'è Ok Un paio Poi metteremo I turni da 14 ore Fissi Là Perché Se no Ci moriamo male Qua Vai vai Risale un po' Il freschino Grazie Tomalele Grazie per i 4 mesi Grazie mille Aslora Aspetta la valle isolata Esplorare questa valle Sembra avere Un microclima Proprio Un microclima Proprio Il freddo E meno intenso E la cascata Seppur gelata Sembra aver Fluito Non molto tempo fa Esplora Tracce di persone Addentrandoci Ulteriormente Nella valle Abbiamo trovato I resti Di una boscaglia Di cui non è sopravvissuto Nulla Oltre a tronchi mozzati Qualcuno deve aver tagliato Gli alberi E nemmeno troppo tempo fa Infatti abbiamo rinvenuto Delle patatine In buono stato Sotto la neve Ok Recupera risorse Legname E proseguiamo Hot springs Eh se stanno allontana Sempre di più però Supporti Ligni Quindi adesso Possiamo Utilizzarli come bonus 50 di legno Utilizziamo E aumentano del 50% Per le prossime 12 ore Qua mettiamo Che lavorano Fino alle 20 Buttace questo E via 0-3 a ora Dateve da fa Per il momento Andiamo con quelli Poi facciamo L'acciaio Piano piano Anche se In realtà Vabbè Vediamo Che è successo qua La supplica Di un bambino Capitano Nel cimitero Accanto a una lapide Abbiamo trovato Un bambino congelato Fino al midollo Deve essere rimasto Lì per ore Vuole che convuchi Una riunione D'emergenza Dice che se lei Accetta Sua madre Si risveglierà Per essere presente Deve accettare La sua perdita Mi spiace Ma non possiamo fare niente Quindi questo è quanto Grazie Tomalele Grazie per i 4 Grazie mille L'acciaio Aspettate Perché noi L'acciaio Lo potremmo prendere Anche da qualche Altra parte Tipo qua Se faccio Un Punto di raccolta Legna E acciaio Le persone impiegate A lavorare qui Raccolgo risorse Dai mucchi di carbone Casse di legno E rottami di acciaio Vicini Lo posso piazzare qua Arriva pure qua No non ci arriva Dobbiamo mettere Vabbè dovrei fare una stradina Che è fattibile Come cosa Se lo mettiamo qua Raccolgono Da tutte queste parti Qua intorno Quindi mettimi una strada Al momento Così poi la togliamo Ok Vai Aspettate un attimo Scorte rovine di legno esaurite Scorte rovine di legno esaurite Va benissimo E facciamo Mortal Shell Domani mattina Ragazzi Arriva alle 11 Squadre miste Ci potrebbe stare Monta carichi Monta carichi pure La dobbiamo darci La dobbiamo darci Di prepotenza Quindi andiamo qua Un attimo 75 di legno Che non abbiamo E niente Aspettiamo un attimo Aspettiamo che ci Recuperano un po' di legname Eccala Case gelide Eh riscaldamento No Capitano Alcuni dei nostri Sono preoccupati Delle basse temperature Che hanno in casa Con maniere appropiate Fanno notare Come sia facile Ammalarsi quando fa freddo E le chiedono Di occuparsi del problema Riscalderemo qualche casa Dovrai iniziare a riscaldare Sei delle case Molto fredde Entro i prossimi due giorni Mantenere le carte Per i prossimi due Ma se faccio i dormitori Credo che ce lo darà fallito Ma noi ci proviamo Ehm Vabbè spendiamo un po' di legno Per fare dei dormitori Purtroppo Questa Questa è Due Tre Quattro Cinque Veloci Veloci Dai fatevi le case Datevi da fa' Nova Londra Ce l'aveva mandato Un po' di cibo Mi sa di sì Perché qualcosa Avevano fatto Ma sono maniati subito Mi sembra Allora Assicurati che le condizioni Di vita delle case Siano almeno vivibili Quattro di sei No vabbè Funziona pure la cosa Di dormitori Ok Devo fare solo un'altra casa Che al momento Non posso fare Perché mi gaffo Ehm Estrazione del carbone Che pure una segheria Se potrebbe fa' Una ricerca Squadre miste Avevamo detto Qua ci mancava il legname Quindi la segheria Possiamo farlo Non abbiamo manco dieci di legno E niente Dobbiamo aspettare Aspettiamo il mattino Che vanno a lavorare I ricognitori Hanno raggiunto Hot Springs Aia Arriva il fresco Aia Allora Aspettate Hanno trovato il cibo Un piccolo insediamento Costruito al riparo Di alcune rocce In cui vivono Svariate decine di persone Consiste Di vari edifici Solidi E di due grandi serre Riscaldate dalle sorgenti Di acqua calda Aia Esplora Oh Abbiamo trovato un altro Amamposto Un dono di vita Hot Springs Questo insediamento È un enclave In cui la sopravvivenza Dipende da alcune sorgenti Di acqua calda I suoi abitanti Che culo che ci avete Eh Non vorrei di I suoi abitanti Provengono da una cittadina Sopravvissuta Alla grande tormenta Grazie all'aiuto Di un'altra città Superata la tormenta Un piccolo gruppo È partito portando con sé Semi e germogli Dopo innuverevoli sventure Si sono imbattuti In questo luogo È qui che hanno costruito Le serre E piantato i semi Per coltivare Il dono della vita Ci hanno dato Un po' di cibo In segno di benevolenza E sono desiderosi Di darcene altro Se in cambio Li aiutiamo A espandere L'insediamento Fantastico Prendiamo Il cibo Con la promessa Di costruire Una stazione Di commercio In questo luogo Ok Inviamo una squadra Di costruzione Per costruire Una stazione Del commercio Un piccolo insediamento Costruito Al ribaro Di alcune Ok E come faccio A inviarla Posso farlo Da qui Inviamo una squadra Di costruzione Devo farla La squadra Di costruzione Ah no La devo fare Vai al deposito Di trasporto Aspetta un attimo Commercio Con hot spring Ok Piano piano Questa è una cosa Nuova di questo DLC Ora che abbiamo trovato Una fonte di cibo Promettente Dovremmo Formare Una squadra Di costruzione Nel deposito Di trasporto E mandarla A hot springs Per creare Una stazione Di commercio Permanente Così commerciamo Con quella città Ok Quindi Squadra di costruzione Nel deposito Di trasporto Questo è il deposito Di trasporto Questo è il deposito Di trasporto Sì Come faccio La squadra di costruzione Unità Dieci lavoratori Mi servono 60 acciaio E 50 legna Che non ho Piano piano Signore Che dobbiamo fare Che dobbiamo fare